Fin dalla sua inaugurazione a novembre era chiaro a tutti che il grande vulnus del nuovo tribunale ricostruito in via 20 Settembre era la carenza di parcheggi. Dal giorno dopo auto in sosta selvaggia lungo tutta via Filomusi Guelfi hanno creato non pochi problemi alla circolazione e costretto spesso la polizia municipale ad elevare sanzioni e multe per scoraggiare i parcheggi più o meno fantasiosi. Per tamponare l'emergenza era stato attivato anche un servizio navetta che partiva dal parcheggio della Corte d'Appello vicino alla stazione, ma anche quella operazione non ha riscosso particolare successo, con cittadini e avvocati sempre alla ricerca di un parcheggio nei pressi del palazzaccio, con conseguente caossa nelle vie limitrofe dove tutto un cantiere è persino davanti alla sede comunale di Villa Gioia. Giovedì, due mesi e 230 mila euro dopo, verrà inaugurato il parcheggio che sorgerà a fianco dagli uffici giudiziari, dove in precedenza erano costruite delle abitazioni di dedizia residenziale. Cento posti auto che aiuteranno a regolarizzare il problema della sosta, che nei mesi scorsi ha sollevato proteste anche di chi, pur non dovendo andare in tribunale, non aveva alcuna idea di dove lasciare l'auto, correndo ogni volta il rischio di trovare l'odiatissimo Revale Verde sul parabrezza.